La Scuola di Giornalismo dell'Università su L'Orsola Bene in Casa, nell'ambito del programma del corso, ha organizzato questa mattina un forum dedicato al tema i rapporti tra giustizia e politica, invitando come relatore il Sindaco di Napoli, che nell'aula Giancarlo Siani ha parlato della sua esperienza che lo ha visto protagonista in entrambi i campi, prima come magistrato e poi come politico. Perché De Magistris, mi pare abbastanza ovvio, è uno dei pochi che ha fatto entrambe le esperienze e ha una visione molto particolare, molto personale, assolutamente non ovvia né scontata e quindi credo sia interessante per i ragazzi della scuola sentirla questa tesi sulla giustizia e sulla politica e la sua viva voce. Io dico sempre che la politica, una società civile, deve avere la capacità di selezionare autonomamente la propria classe dirigente, senza aspettare l'elemento magistratuale. Purtroppo il nostro Paese è arrivato fino al punto che si aspetta, diciamo, il medico per intervenire. Perché il magistrato è un po' il medico, cioè quello che interviene sulla patologia, perché certe volte non si riesce a costruire una classe dirigente adeguata. Dopo la sua relazione, il sindaco è stato intervistato dai giornalisti praticanti della scuola in un incontro che è proseguito poi anche con una visita a Palazzo San Giacomo. Quello che è negativo è che si sono verificati i casi di magistrati che si sono avvicinati al potere, che sono andati a braccetto, che quindi hanno fatto in qualche modo intese con pezzi di politica. E quello non va bene. La Costituzione dice che bisogna essere separati e collaborare lealmente per le questioni istituzionali di carattere generale. Cioè una cosa è il potere legislativo, il potere esecutivo e il potere giudiziario. Quindi molto importante è da difendere estrenuamente l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, il che significa stare lontano dagli apparati di potere o da meccanismi di sistema che possono allontanare la magistratura proprio da quell'autonomia e indipendenza. Grazie a tutti.